Un saluto a tutti gli utenti di Mondo Napoli. Allo stelto di Carmando Maradona, gli azzurri battono la Lazio per un risultato netto di 5-2. Una partita emozionante, che oltre ad essere piena di emozioni, è soprattutto una partita ricca di gol ben sette, segnate dalle due squadre. Un risultato molto importante, soprattutto in ottica Champions League, perché il Napoli, oltre a restare aggrappato alla zona Champions, spedisce anche la Lazio a meno 5 classifica, nonostante abbia ancora una partita comunque da recuperare. Di seguito vi mostreremo le paginele stilate dalla redazione di Mondo Napoli. Partiamo dall'estremo difensore, Alex Meret. Il voto per lui è di 5,5. Nel primo tempo è insicuro in due occasioni, ma Goulibaly prima e il fischio dell'arbitro poi salvano il portiere azzurro. Nella ripresa subisce due gol e va poco deciso sulla punizione segnata poi da Milinkovic Savic. Quindi tocca a lui, diciamo, il gradino più basso delle pagelle della redazione di Mondo Napoli. Andiamo ad analizzare la prestazione dei quattro di difesa. Partiamo da sinistra verso destra, con il terzino albanese e il 6 di Usai. Voto per lui 6,5. Le partite sono fatte ad episodi che possono cambiare il corso e il suo fallo da regore sull'Azzaro e l'avvio della partita sembrava compromettere il tutto. Poi fortunatamente il VAR interviene e assegna un calcio di regore a Napoli. Poi si rende anche protagonista assoluto nel gol del 3-0 di Lorenzo Insigne. Passando alla coppa dei centrali, Koulibaly-Manolas, il difensore senegalese voto 6,5. Non è facile marcare in pochi giorni sia Lukaku che Immobile, ma il centrale azzurro ha in difficoltà in alcuni momenti, ma riesce quasi sempre a recuperare. A colpe sul gol di Ciro Immobile, tenendole gioco, a sua difesa può esserci però comunque la scusante del pallone perso dai compagni in azione di ripartenza. Per il difensore greco Manolas, voto 6,5. Il giallo sull'Azzari poteva essere evitato. Infatti salterà il match contro il Torino per squalifica. Il greco però, rispetto alle ultime uscite negative, compie comunque un'ottima prestazione. Staganovista del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, voto 6,5 ed è tornato ad ottimi livelli. Entrambe le fasi compiute in modo egregio. Vive il miglior periodo di forma da quando Cattuso siede sulla panchina del Napoli. Passiamo al centrocampo. Temoe Bacayoko, voto 6,5. La risposta che tutti volevano avere dal francese non arriva. La lentezza di avversario al centrocampo lo facilita nel ruolo di schermo davanti alla difesa. E sbaglia molto poche difese in fase di impostazione nella prima parte di gara. Nella ripresa rientra molto scarico e comincia a sbagliare di tutto. Per lo spagnolo Fabia Rulz, voto 6,5. Come Di Lorenzo sembra rinato. Tanti palloni giocati, semplici tocchi, ma precisi ed utili. Qualche mese fa anche la giocata più semplice sembrava impossibile. Invece oggi sembra aver trovato le misure giuste in mezzo al campo. Adesso ci spostiamo nel pacchetto offensivo. Partiamo dal capitano, Lorenzo Insigne. Voto 8 per lui. Il capitano si è dimostrato protagonista sia nell'occasione del calcio di rigore che poi un gol spettacolare segnato nel secondo tempo. Continua il suo percorso di maturità. Per Piotr Zilischi, il centrocampista polacco, voto 7. Come il suo soldo va un momento. Un calciatore molto discontinuo, però quando si accende è sempre molto devastante. Anche il polacco, come Fabio Ruiz, sembra aver trovato la sua zona negli schemi di mister Cattuso e comincia ad avere una certa continuità di rendimento, ciò che è mancato negli anni precedenti. Matteo Politano, voto 8. È il voto più alto della squadra di Gennaro Cattuso. Un primo tempo perfetto. Oltre al gol, trova spesso le giocate giuste e aiuta molto di Lorenzo anche in fase di ripiego. Ad oggi sembra essere quasi un'utopia che Mancini ancora non l'abbia convocato in nazionale. Spinge, lotta, difende ed è meno elezioso ma più concreto. Per questo motivo sarà lui il migliore in campo. Poi in attacco il terminale offensivo Dries Mertens, voto 6.5. Un assist per Politano non sembrano garantiti la sufficienza, però poi ritorna molte volte in difesa, dopo alcune ruote di Cattuso, ma sbaglia spesso e volentieri il passaggio finale decisivo in avanti. Prende anche un cartellino giallo inutile al primo tempo, però poi nella ripresa a modo suo segna il gol spettacolare che quota numero 102 e diventa così il miglior marcatore in Serie A insieme a VOIAC. Adesso ci spostiamo in grafica sulla destra e andiamo a valutare la prestazione di Victor Osimè. Voto 6.5. Non c'è molto da raccontare della sua prestazione del secondo tempo, però sfrutta l'unica occasione nitida ricevuta davvero attaccante da reale di rigore. E Ciuquilo Zano, 6.5. Serve l'assista a Victor Osimè e si spera che possa ritrovare la continuità che ha lasciato poi dopo l'infortunio. Amir Rachmani, voto 6. Il difensore Kosovaro, voto 6.5. Il difensore Kosovaro ha disputato per quello che ha giocato nel secondo tempo da sostituto comunque un'ottima prestazione. Per quanto riguarda Lobotka e Delmas, la redazione di Mondonapoli non ha preferito dare un voto visto che non hanno offerto una prestazione né in positivo né in negativo per i minuti finali che hanno giocato. Gennaro Gattuso, voto 7.5. Ormai trovato la giusta quadra della squadra, adesso il sogno Champions è a portata di mano. Si porta a sole tre lunghezze dal Milan, mentre a due lunghezze dall'Atalanta e dall'Ajuventus. Il sogno Champions adesso per gli azzurri è ancora vivo. Inoltre vi consigliamo di continuare a seguirci sui nostri profili Facebook e Instagram con il nome di Mondonapoli Page e sul canale YouTube Mondonapoli Channel e anche sulla chat Mondonapoli Chat per restare sempre aggiornati, consultare sempre il nostro sito www.mondonapoli.it e non perdervi il prossimo appuntamento con le pagelle di Torino-Napoli nel posticipo di lunedì sera. Contro Granata.